www.fondiperfrane.it 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 ha relazionato oggi a Teramo il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, il servizio. Presidente D'Alfonso, sollecitudine per far arrivare questi fondi? In questo caso, per quanto riguarda il Comune di Teramo, stiamo a verificare, monitorando il rispetto esatto della tabella di marcia per quanto concerne l'utilizzo, cioè la esecuzione dei lavori e anche la rendicondazione dei fondi 2007-2013 corrispondenti al PORFESR e AIPISU. Sono convinto che si è fatto un grande lavoro. Prima di venire a Teramo siamo stati al Comune di Chieti e abbiamo anche ragionato con la provincia di Chieti. Adesso verifichiamo qui al Comune di Teramo lo stato di progressione dei finanziamenti. Oltre a questo poi presenteremo due elenchi di nuovi finanziamenti riguardanti 20 comuni, sia per la messa in sicurezza di edifici comunali, come sedi anche di strutture COC per la protezione civile, sia 10 interventi per 10 comuni per quanto riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico. Per quanto riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico siamo praticamente in 15 mesi a circa 213 milioni di euro dati ai comuni. La Regione è ente di programmazione e di finanziamento. Noi non appaltiamo, non siamo stazione appaltante nel 99% dei casi. Devo però dire che i comuni adesso devono procedere con sollecitudine a realizzare. Noi abbiamo fatto dei miracoli e continueremo a lavorare di anno in anno per recuperare lunghe stagioni quinquennali di disinteresse e di minimalismo per la manutenzione del suolo, per quella che si chiama l'opera di riordino del suolo e del sottosuolo, anche di riordino del sistema delle acque. Noi ci siamo molto concentrati su questo fronte e abbiamo messo in campo qualcosa come 213 milioni di euro e siamo ancora alla ricerca di risorse. La mattina teramana del governatore Luciano D'Alfonso è servita anche per alcuni impegni concreti che sono stati sottoposti all'attenzione del sindaco Brucchi. In tema di discesso idrogeologico, D'Alfonso ha garantito il massimo impegno per la questione di scarica alla torre. Sono stato sollecitato dall'onorevole Tancredi su questo problema importante. Ritengo di portare a Teramo il capo della struttura tecnica di missioni di Palazzo Chigi, Grassi, e il capo della protezione civile, Curcio, ha detto il governatore. Per una valutazione del problema. Poi con il sindaco troveremo una soluzione resistente che faccia giustizia anche di questa delicatezza idrogeologica. D'Alfonso ha anche rassicurato sull'inserimento del sistema delle periferie di Teramo afflitte dal logoramento idrogeologico, e tra questa con le parco, nei prossimi 150 interventi aggiuntivi regionali. Ma ha anche annunciato una battaglia campale sul recupero dell'ex manicomio di Porta Melatina, definendolo progetto Faro, al pari di altri 4-5 regionali su cui l'Abruzzo punterà nell'immediato futuro. Ma c'è un punto ancora più fermo, ha sottolineato il presidente della regione, nel masterplan abruzzese 2015-2016, la realizzazione del quarto lotto della Teramo Mare, a completamento del collegamento verso l'Adriatico, garantendo che non ci saranno intracci all'opera. Parlando di strade, ha annunciato che il secondo capitolo dei fondi per gli investimenti infrastrutturali nella regione, dopo quello dedicato alla provincia di Chieti, spetterà a Teramo. Dei 100 milioni di euro complessivi in Abruzzo, dei 26 milioni per le strade terramane, 8 andranno alla viabilità del Valfino, che attualmente può essere percorsa solo con i camion o i cingolati, stante la situazione disastrata. Soddisfatto il sindaco di Teramo nell'incontro con il presidente D'Alfonso, che ha preso l'impegno di puntare sul recupero dell'ex manicomio, considerato come opera strategica a livello regionale. Non solo D'Alfonso si impegnerà anche per collegare con una funivia Piazza Garibaldi alla sede dell'Università di Coste Sant'Agostino. È stato fatto il punto anche sulle opere in corso di realizzazione con i fondi PISU. Il comune di Teramo sarebbe in regola, come ha precisato lo stesso Brucchi. Ascoltiamo. Soddisfatto di questo incontro con il presidente della regione D'Alfonso, tanti punti toccati, poi punti che portano dietro dei fondi e quindi delle opere da realizzare. Cominciamo dai PISU. Ma sì, la riunione è stata assolutamente una riunione positiva. Ma sui PISU noi oramai siamo nella fase conclusiva. Dei 9 milioni e mezzo, 7 milioni e 3 sono soldi che stiamo spendendo. I lavori termineranno entro il 31-12 così come prevede il tipo di finanziamento europeo. C'è un discorso tecnico, burocratico di rendicontazione ma che con la riunione di stamattina abbiamo risolto. Di fatto possono slittare quindi? Sì, possono slittare di qualche mese ma soltanto per un problema di rendicontazione, il fatto che la tesoreria chiuderà prima del 19. Insomma sono problemi tecnici che non ha soltanto il Comune di Teramo che hanno anche altri comuni, tante che stamattina c'era anche il Comune dell'Aquila e la Provincia dell'Aquila e la Provincia di Teramo che hanno gli stessi identici problemi. Poi si è parlato invece anche di Masterplan e il Presidente ci ha comunicato che nel Masterplan per quanto riguarda il Comune di Teramo c'è il finanziamento della funivia, la funivia che da Piazza Garibaldi arriverà all'Università. È un progetto che era presente nel programma elettorale di Maurizio Brucchi Sindaco e quindi il fatto che venga finanziato all'interno del Masterplan per noi è motivo di soddisfazione e diciamo risolverà anche un problema tra virgolette di distanza tra quella che è la sede dell'Università e la città. Un discorso diciamo che di cui avevamo parlato già in passato. E poi c'è il discorso dell'ex manicomio che per noi è un progetto importante e interessante. Il Presidente ha sottolineato che fa parte dei progetti strategici della Regione Abruzzo. Addirittura simbolo ha detto, vero? Simbolo è strategico quindi diciamo che sarà finanziato. Entro dicembre io convocherò il secondo tavolo per quanto riguarda questo progetto e diciamo ci porteremo avanti. Nel frattempo abbiamo lavorato in questi mesi, non siamo stati a guardare. Il Presidente vuole, ha detto oggi chiaramente, che vuole ripartire da quello studio di fattibilità che già esiste che riguarda appunto il recupero dell'ex manicomio. Recupero totale, Sindaco? Ma sì, recupero totale. Direi che oramai non c'è più necessità di prendere la situazione di petto. Poi abbiamo affrontato anche altri problemi. Abbiamo parlato del corso, i lavori stanno andando avanti, del Castello della Moda. Insomma, una giornata di verifica di tutti quelli che sono i progetti europei, regionali, finanziati appunto con queste risorse per vedere lo stato di attuazione. E direi che Teramo sta facendo bene la sua parte e io di questo sono soddisfatto. A 24 ore dal blitz di Fiamme Gialle e agenti della Polizia Stradale negli uffici del Comune di Teramo, dove è stata acquisita tutta una serie di atti relativi al nuovo bando per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, la Procura iscrive un primo nome nel registro degli indagati, quello di un dipendente della ditta Frata Arcangeli, una delle sette ditte che ha risposto al bando pubblicato dal Comune. Un atto dovuto, quest'ultimo necessario, in virtù di tutta una serie di atti d'indagine legati all'inchiesta. Il dipendente infatti si sarebbe occupato di seguire l'iter relativo alla partecipazione dell'azienda al bando. L'inchiesta, che porta la firma del PM Davide Rosati, ruota intorno all'ipotesi di reato di turbata libertà degli incanti, con la magistratura intenzionata a chiarire se ci siano stati tentativi di alterare il risultato della gara. Il servizio al momento non è ancora stato affidato. Già attivato anche a Teramo, dopo i terribili fatti di Parigi, il coordinamento delle forze dell'ordine per contrastare anche a livello locale episodi di terrorismo. Individuati e confermati siti su cui prestare maggiore attenzione, come ci ha detto il prefetto di Teramo, Walter Crulo. Vediamo. Prefetto, a Teramo possiamo stare tranquilli in termini di sicurezza dopo quello che è successo a Parigi e come sta montando la preoccupazione un po' in tutto il mondo? Ma il terrorismo non è soltanto di oggi, è già da un po' di tempo, per cui tutte le prefetture già erano state allertate a suo tempo e anche noi avevamo fatto una serie di incontri, quindi avevamo individuate anche una serie di siti. Ieri abbiamo fatto soltanto un ulteriore incontro per verificare naturalmente i siti che erano stati individuati a suo tempo e quindi li abbiamo confermati. Quali sono? Sono abbastanza lunghi e sono attenzionati naturalmente dalle forze di polizia. Diciamo che si è alzato un po' il livello di sicurezza, ma generalmente comunque la situazione almeno finora non ha dato problemi o sintomi che possa succedere un qualcosa di strano. Questo significa che si sono alzati l'attenzione per i livelli di sicurezza con maggiore presenza degli uomini delle forze dell'ordine in giro? Ecco, come si traduce? Si traduce in un maggiore coordinamento tra le forze nelle operazioni lungo la strada e vengono attenzionati quei siti che devono essere attenzionati con maggiore attenzione. Qualcuno diceva ad esempio il porto, gli ingressi che possono avvenire tramite i porti. Noi abbiamo quello di Giulianova. Ecco, lì come si può intervenire? Perché non c'è questa grande sorveglianza. Ma il porto di Giulianova è un porto comunque piccolo e abbastanza locale. In ogni caso c'è l'ufficio circondariale marittimo che fa il controllo appunto sul porto. Ma io ripeto, insomma, finora noi ecco si parla anche un po' di questi immigrati, quindi un po' di paura da parte delle persone, ma assolutamente noi stiamo gestendo gli immigrati ormai da più di un anno e mezzo. Ne gestiamo una media di 500 e finora non hanno dato alcun problema nemmeno di ordine e sicurezza pubblica. Ed è previsto l'arrivo di nuovi immigrati? E questo dipende dagli sbarchi che si succedono. In base agli sbarchi poi il governo naturalmente li riassegna sul territorio nazionale. L'Arci di Teramo guidata da Giorgio Gianella promuove un'iniziativa di commemorazione delle vittime di Parigi contro ogni barbarie terroristica e contro chi promuove la logica dello scontro di civiltà. Siamo al fianco del popolo francese colpito così duramente dei popoli che combattono l'incubo dell'ISIS senza quartiere e di chi promuove politiche di accoglienza e di integrazione. Ricordiamo, spiega Gianella, anche tutte le vittime civili degli almeno ultimi 25 anni di politiche di guerra dei governi occidentali. L'appuntamento è per giovedì alle 19 a Largo San Matteo dinanzi alla Prefettura di Teramo. Aderiranno le seguenti associazioni. Arci Teramo, Emergency Teramo, Amnesty Teramo, CGL Teramo, Hauser, Udu, Associazione Detto Tra Noi. E ce ne saranno probabilmente anche altre che aderiranno in questi giorni. La cronaca moglie e figlia muoiono carbonizzate. Il capofamiglia si salva per miracolo ed è ferito gravemente anche se non corre pericolo di morte. Questo è il drammatico bilancio dell'incidente mortale avvenuto oggi sulla strada statale 17 all'altezza del comune Aquilano di Barisciano. Due le auto coinvolte secondo quanto appreso dalla polstrada che ha svolto i rilievi. Sanzioni amministrative per 17.000 euro dopo 117 ispezioni compiute dal Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Pescara sulla filiera della pesca in Abruzzo e Morise. Sequestrati 45 kg di prodotto ittico e attrezzi da pesca non conformi alle norme vigenti. Inoltre sono stati trovati presso un grossista 33 kg di triglie sottomisura per le quali è stato disposto il sequestro. Il pescato, giudicato dai veterinari della ASL, idoneo al consumo umano, è stato poi donato in beneficenza ad alcuni enti caritatevoli. L'Abruzzo è usato come bacino elettorale della politica. Così a Mottiaso Alvini, il segretario della Lega, ha esordito nel corso della sua tappa in Abruzzo. Il leader del Carroccio, a commento degli attentati di Parigi, è tornato ad accusare l'Europa, assimilata a niente più che un grande centro commerciale. Vediamo. Governeremo in Abruzzo come in Italia. Questa stupenda regione finora è stata usata come bacino elettorale dalla politica, con i partiti che arrivavano prima delle elezioni, promettendo tanto e scomparendo il giorno dopo il voto. Così Matteo Salvini, nel corso del comizio che ha tenuto in piazza a Montesilvano, prima di intervenire al convegno Ripensare l'Unione dell'Europa, organizzato dal fronte No Euro, che conta tra i promotori il docente di economia Alberto Bagnai e l'ex manager leghista Claudio Borghi. Liberare l'economia, l'Italia ha tali e tante energie ferme, azzoppate da regole europee folli, da eccesso di tassi e di burocrazia, che occorre liberarli. Io penso che due lucidi rivoluzionari come Borghi e Bagnai farebbero correre questo paese, non crescere dello zero virgola. Salvini è poi intervenuto sugli attentati di Parigi, questo è in governo razzista contro gli italiani, ha detto. In un momento di difficoltà economica vengono prima gli italiani e poi tutti gli altri, ha aggiunto Salvini. Abbiamo le culle vuote perché i nostri giovani non possono permettersi di fare figli e se ne devono andare. Mentre si è scoperto che dei due terroristi arrestati in settimana a Merano, uno aveva l'affitto pagato dallo Stato perché rifugiato e l'altro percepiva 2000 euro al mese in quanto padre di cinque figli. Questa Europa rischia di essere soltanto un grande centro commerciale, ha rimarcato il leader leghista. Non è quella che sogno io e che sognavano gli ideatori originari dell'idea di Europa. C'è noi con Salvini che è un soggetto che sta crescendo, coinvolgendo soprattutto gente nuova, tanti giovani, tanti professionisti, gente che non ha mai fatto politica. La scommessa è di unire l'Italia nel nome del cambiamento. Quindi ci metto la faccia, ci metto l'energia, ci metto le idee e sto raccogliendo tante soddisfazioni anche al centro e al sud. Una casalinga sante-gidiese di 50 anni è stata denunciata a piede libero dai carabinieri per stalking, lesioni personali e ingiurie nei confronti dell'ex fidanzato, un impiegato a scolano di 50 anni. Secondo quanto ricostruito nelle indagini dai militari dopo la denuncia dell'uomo, la donna, non rassegnatasi alla separazione dall'impiegato dopo una breve relazione sentimentale quest'estate, avrebbe cominciato a pedinarlo, minacciarlo e ad inviare messaggi minatori sul cellulare. In un caso di recente lo avrebbe anche affrontato in un incontro di chiarimento, nel corso del quale lo avrebbe aggredito con schiaffi e graffi. È stato a quel punto che l'uomo ha deciso di denunciare la sua ex ai carabinieri. Era stato arrestato la scorsa settimana per maltrattamenti in famiglia. Oggi il giudice lo ha assolto perché il fatto non sussiste, accogliendo la tesi difensiva del suo legale sull'inesistenza di episodi di violenza ripetuti e costanti nel tempo. Cadono dunque le accuse nei confronti di Stojan Babsek, 54enne straniero residente a Bisenti. L'uomo, dopo l'arresto della scorsa settimana da parte dei carabinieri, accusato di aver minacciato la moglie con un paio di forbici dinanzi alla figlia minorenne e comparso dinanzi al giudice nel processo corrito abbreviato, condizionato all'audizione della donna e della minorenne. L'avvocato Pietro Marano, legale dell'uomo, che nel 2014 era stato segnalato per un altro episodio di violenza ed era stato allontanato dall'abitazione, ha dimostrato che il suo assistito, nel periodo tra i due avvenimenti, non ha fatto registrare atteggiamenti violenti tali da far configurare il reato di maltrattamenti in famiglia. È stato dunque assolto e rimesso in libertà, subendo, con danni minore, a quattro mesi per resistenza pubblico ufficiale e a un mese per minaccia nei confronti della sola moglie. Gli agenti della squadra mobile dell'acquistura di Taramo hanno arrestato un operaio albanese di 34 anni, residente nella periferia di Taramo, sorpreso con 50 grammi di cocaina. L'uomo bloccato nel corso di un'operazione antidroga nei pressi della sua abitazione aveva indosso un involucro contenente allo stupefacente. Secondo gli investigatori, viene ritenuto uno dei fornitori, degli assuntori del capoluogo e dei centri vicini per l'acquisto di cocaina. È stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Castronio, a disposizione del magistrato. Entro la fine dell'anno, al massimo nei primi mesi del 2016, arriveranno i primi fondi destinati all'agricoltura, stanziati dal nuovo piano di sviluppo rurale della regione Abruzzo. Molte le opportunità per i giovani, come ha dichiarato l'assessore regionale Pepe. Sentiamo. Finalmente il caso di dirlo ha approvato il PSR, assessore. Un grande risultato per la nostra regione. Siamo la prima regione del centro-sud Italia ad avere il piano di sviluppo rurale approvato 2014-2020, 433 milioni di euro a disposizione della comunità agricola regionale. Le prossime settimane saranno utili per la pubblicazione dei primi bandi a partire dal bando riservato ai giovani, al primo insediamento nel mondo agricolo. Facciamo una previsione. In che percentuale riusciremo a intercettare questi fondi questa volta? Io mi auguro che noi riusciremo a spendere alla fine dei sette anni tutti e 433 milioni di euro a disposizione e oltre a questi ci saranno gli interventi dei privati e quindi metteremo in campo oltre 600 milioni di euro. Cosa va a premiare, tra virgolette, questo PSR? Innanzitutto la competitività delle nostre imprese agricole. Poi ovviamente svilupperemo le micro e macro filiere, le comunità rurali nel suo complesso, i giovani, la gestione delle risorse idriche, delle foreste. Davvero una grande opportunità per tutto il mondo agricolo regionale. Assessore, lei viene da una zona vocata, da sempre all'agricoltura, alla vitivinicoltura. Se la sente di dire ai giovani che credete nell'agricoltura in questo PSR? C'è tanta attenzione da parte dei giovani verso l'agricoltura, ma i giovani devono avvicinarsi a questo mondo in maniera preparata, elaborare progetti imprenditoriali e industriali assolutamente competitivi per poi riuscire in termini di nuova occupazione, imprese, reddito. Prima bisogna studiare e approfondire i temi dell'agricoltura e poi sviluppare un progetto di impresa credibile. I primi fondi, quindi quelli che verranno dati ai primi progetti, presumibilmente quando potranno arrivare? I primi fondi sulla competitività e sulla promozione entro fine anno o i primi dell'anno 2016 e quindi mettere a disposizione già nell'anno 2016 i primi fondi per l'agricoltura regionale. Una università sempre più vicina alla realtà in cui vive. Si può sintetizzare anche così lo Startup Day. L'appuntamento di oggi è svoltosi nella Facoltà di Scienze Politiche a Teramo e che ha avvicinato le imprese agli studenti. Startup Day all'Università di Teramo con delle imprese proprio per dare sostanza a questo incontro. Il 9 ottobre scorso il Censis ha presentato in chiusura dell'Expo di Milano un dato estremamente interessante. Nel secondo trimestre 2015 sono state create 300 nuove aziende, le definirei Startup, al giorno da imprenditori con un'età inferiore ai 35 anni. Noi vogliamo far parte di questo evento di innovazione. Vogliamo farne parte non solo per consentire ai nostri laureati un collocamento nel mondo del lavoro adeguato ma anche per fornire quel sostegno durevole allo sviluppo economico che giustifica la presenza di una università in un territorio. Grande sostegno alle Startup. Questo è il primo Startup Day. Stiamo già studiando un'ipotesi di un festival delle Startup che vorremmo istituzionalizzare per consentire anche ai nostri giovani non solo l'alternativa della fuga all'estero, non solo l'alternativa dell'emigrazione, ma la creazione qui sul territorio di aziende innovative, innovative non solo per l'attività che svolgono, che propongono, ma innovative anche come concezione. E sull'onda di questi risultati e anche nell'alveo dei grandi piani di investimento che si annunciano anche qui in regione, io credo che questa sia un'occasione straordinaria per ripensare lo sviluppo. Le liti tra gestori telefonici e utenti si risolvono sempre più con le conciliazioni e sempre più cittadini si rivolgono gratuitamente al Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni. Nel solo 2014 sono stati 4 mila e i gestori hanno rimborsato 1 milione 800 mila euro. I dati sono stati illustrati questa mattina nel corso di prima di tutto dal presidente regionale Filippo Lucci. Solo nel 2014 noi abbiamo svolto oltre 4 mila conciliazioni. Che cosa significa questo? Che 4 mila tra famiglie e imprese sono venute al Corecom con un problema legato alla telefonia mobile o fissa e sono usciti con la soluzione nel 90% dei casi. Perché la conciliazione è gratuita, perché ormai il Corecom è in grado attraverso il suo personale di poter dare risposte veloci e efficienti. E devo dire che i problemi sono poi per una bolletta esagerata, un contratto che non viene rispettato, la linea DSL che non funziona bene, non funziona per nulla. Tutta quella sfera dei problemi che investono il settore della telecomunicazione e della comunicazione in generale legate non solo alla telefonia ma anche alla pay per view, quindi Sky, Mediaset Premium, tutto questo può essere risolto al Corecom semplicemente con una conciliazione gratuita. Lo ripeto, noi abbiamo un primato a livello nazionale sia per il buon esito della conciliazione che per la quantità e il numero rispetto agli abitanti, 1.800.000 Euro di indennizi dalle compagnie telefoniche che sono tornate alle famiglie abruzzesi, cioè 1.500.000 Euro di assegni staccati in favore delle famiglie che hanno avuto problemi con le compagnie telefoniche. Guardate, significa deflazione del carico giudiziario per i tribunali, perché questi sarebbero tutti i processi o comunque tutta attività che andrebbe a finire presso la giustizia ordinaria, i giudici di pace e quindi un risparmio per i cittadini. Una soluzione al problema, a volte è più importante il problema, la soluzione del problema, che avere l'indennizzo e quindi questo è il secondo punto di forza. Poi significa l'indennizzo, abbiamo detto 1.800.000 Euro, la quarta cosa è questa, che l'interesse delle compagnie telefoniche, perché oltre il 50% dei casi la compagnia telefonica conserva il cliente. La sicurezza è un diritto che ogni amministrazione cerca di garantire ai propri cittadini. A Rosseto l'iniziativa è singolare per contrastare la violenza sulle donne. Il Comune organizza un corso base di difesa personale riservato al sesso femminile. L'obiettivo è infondere intanto il giusto atteggiamento mentale per affrontare le situazioni di pericolo e gestire la paura. Il servizio. Assessore Vannucci, perché un corso base di difesa personale riservato alle donne del Comune di Roseto? Perché? Perché dopo tutti questi episodi di cronaca, purtroppo che sentiamo quotidianamente su tutto il territorio nazionale, mi è venuta l'idea di organizzare questo corso base di prima difesa riservato alle donne, in modo tale che ogni donna possa almeno conoscere le prime tecniche per sapersi difendere e divincolarsi e comunque salvarsi la vita. È un corso che io ritengo veramente utile, dove non diventeranno delle brusli, ma comunque riusciranno anche grazie a un istruttore della Polizia di Stato che è esperto in tecniche operative e a una psicologa. Verranno insegnate le tecniche per combattere la paura e poi delle tecniche per riuscire a salvarsi la vita. Poi verranno anche utilizzate il capsicum, verrà utilizzato quello spray al peperoncino a norma. Verranno fatte anche lezioni, per esempio, con il tacco a spillo. Quindi tutte situazioni di quotidianità che la donna si può ritrovare e sono tutte situazioni in cui noi spiegheremo, cioè l'istruttore spiegherà, come riuscire a divincolarsi. Modalità, iscrizioni, il corso intanto è gratuito e quando si svolgerà? Allora, sì, il corso è gratuito, le iscrizioni avverranno presso l'ufficio sport del Comune di Roseto o presso il sottoscritto, ci sono dei moduli da riempire, avverrà sicuramente nelle ore serali. Vedremo in base al numero di iscritti se fare 1-2 lezioni. A settimana dovrebbero essere intorno alle 10-12 lezioni. In fondo al bosco. È il titolo del film che uscirà nelle sale cinematografiche il 19 novembre. Sceneggiatore, il terramano Davide Orsini. Il terramano Davide Orsini è lo sceneggiatore di un film che uscirà nelle sale cinematografiche il 19 novembre dal titolo In fondo al bosco. Questo è il secondo film per te, vero? Sì, salve, io sono Davide Orsini, abbiamo scritto questo film assieme a Stefano Rodovichi e Isabella Chilar, si intitola In fondo al bosco ed esce il 19 novembre al cinema in tutta Italia. Che genere è? È un thriller psicologico, racconta la storia di un bambino che durante una festa tipica del 39 Adige, la festa dei Krampus che si svolge il 5 dicembre, si spaventa e si perde in questo bosco e scompare nel nulla. Completamente nel nulla. Viene accusato il padre ma non viene mai ritrovato il cadavere, è come se si fosse vaporizzato. Cinque anni dopo viene ritrovato da tutt'altra parte a Napoli e tutto dice che è lui, le prove, eccetera, viene riportato in famiglia. Però quella che sembra l'inizio di una benedizione, cioè quello che qualunque genitore vorrebbe, il ritorno di un figlio scomparso, piano piano si trasforma in qualcosa di invece inquietante perché alcuni personaggi, tra cui in particolare la madre, non lo riconoscono, non pensano che sia lui. Perché ti sei avvicinato al mondo del cinema, tra l'altro come sceneggiatore? Eh, ho la passione del cinema da ragazzino, ho lavorato, quando sono andato a Roma ho fatto l'università, mi sono avvicinato ai set, ho fatto l'assistente alla regia, ho fatto casting, ho fatto un po' di gavetta e poi mi sono avvicinato alla scrittura che era la cosa che mi appassionava di più, inventare le storie, personaggi e quant'altro. E quindi poi ho avuto la fortuna, ho frequentato una scuola, ho avuto la fortuna di trovare degli ottimi collaboratori e abbiamo realizzato Stefano Dovichi, questo è il secondo figlio che facciamo. Il primo si chiamava Quadro, è stato distribuito da Rai Cinema soltanto su internet, non è uscito nelle sale, però è stata una grande soddisfazione. Previsioni in Abruzzo. Al mattino parzialmente nuvoloso sulle aree collinare e montane, poco nuvoloso sulle aree litorane, nel pomeriggio nuvoloso sulle aree appenniniche, variabile sulle aree costiere, tra sera e notte moderatamente nuvoloso sui settori interne e sui rilievi, parzialmente nuvoloso sui settori marittimi, temperatura in lieve diminuzione, massime comprese tra 16 e 19 gradi nelle conche aquilane e marsicane, tra 22 e 25 gradi sulle pianure adriatiche, venti assenti o deboli orientali, mare calmo, quasi calmo, in provincia di Teramo, al mattino variabile sulle aree collinare e montane, poco nuvoloso sulle aree litorane, nel pomeriggio molto nuvoloso sulle aree appenniniche, nuvoloso sulle aree costiere, tra sera e notte poco nuvoloso, temperatura in lieve diminuzione, massime comprese tra 19 e 22 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 18 e 21 gradi sulle coste, venti assenti o deboli nord orientali, mare calmo, quasi calmo. Il Teramo sta preparando la sua seconda trasferta di fila, la gara di Rimini in programma sabato alle 15, recuperato Calvano che ieri si è aggregato al resto del gruppo, ancora problemi per Speranza che difficilmente sarà della partita, ancora emergenza in difesa, quindi per il Diavolo che oltre al suo capitano, il Romagna dovrà fare a meno anche degli squalificati al Tobello e per Rotta, quasi certo il cambio di modulo con il passaggio alla difesa a 4 e l'inserimento nell'11 di partenza di Vittorini all'esordio dal primo minuto in casacca biancorossa. La gente si aspetta molto da noi, soprattutto dopo quello che abbiamo fatto lo scorso anno, è dura ma cercheremo di fare il massimo per tornare ai nostri livelli. Mirko Petrella ha parlato così in conferenza stampa a 4 giorni dalla sfida di Rimini, ascoltiamolo nel servizio. Difficile tanto e non poco, anche perché comunque la città, vedendo anche l'anno passato, comunque sperava che quest'anno arrivassero i risultati, arrivassero le vittorie, si lottasse per qualcosa che in questo momento è impensabile e quindi diventa ancora più duro. Però noi comunque ce la mettiamo sempre tutta, domenica purtroppo era partita bene, non siamo riusciti a sbloccarle, il secondo tempo siamo crollati e quello ha fatto la differenza. Speriamo che domenica e sabato comunque ricominciamo da dove abbiamo lasciato prima dell'Aquila, che comunque veniamo da 4 risultati utili consecutivi e bisogna ripartire da lì. Il Presidente come al solito ci dà una grossa carica e quindi cerchiamo più che altro di non farlo arrabbiare, perché comunque lui ci ha sempre trattato bene e si merita una squadra che lotta dal primo all'ultimo minuto, poi comunque i risultati non è che possono sempre arrivare, ma l'impegno non deve mancare mai. Per le nostre caratteristiche davanti, diciamo, è il modulo migliore, comunque con due esterni veloci, che sono bravi nell'uno contro uno, metterli a disposizione proprio in questo uno contro uno è fondamentale. Poi è chiaro, all'Aquila abbiamo trovato una squadra bloccata, l'Aquila è in campo per non prenderle e quindi di conseguenza attacca, 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 alla fine il gol l'abbiamo preso e non siamo riusciti a risollevarci. Speriamo che la Romagna ci continui a portare bene, quindi andiamo a Rivini, fatto gol di testa, ma soprattutto era importante sfatare il tabù trasferte. A Sant'Arcangelo ci siamo riusciti, però adesso dobbiamo ricominciare da dove avevamo lasciato prima dell'Aquila, dalle due vittorie e dai due pareggi. Magari, perché no, Teramo è una città che mi vuole bene e io voglio bene la città, mi trovo benissimo, quindi è il quinto anno che sto qua, spero di rimanerci per altri anni, quindi spero di sì. Speriamo, anche perché sono tre partite che non segno e quindi bisogna ritrovare il gol, ma soprattutto bisogna ritrovare i tre punti. Però comunque la partita la volevi fare tu, non è la squadra avversaria che fa la partita. Al contrario degli altri anni dove giocavi contro il Teramo, la squadra di casa doveva fare il risultato perché non arrivava la squadra abblasonata, mentre quest'anno ci vedono in un'altra maniera. Vedere le decisioni del giudice sportivo, intanto è stato omologato il risultato della partita Teramo-Arezzo, il Teramo infatti non ha dato seguito al preannuncio di reclamo. Squalificati per un turno Enrico Altobello del Teramo e Raffaele De Martino del Rimini salteranno dunque la gara a Rimini-Teramo. Le disegnazioni delle gare di Lega Pro del weekend del Rimini-Teramo sarà diretta da Luca Candeo di Este, ma c'era tese l'acola da Daniele Eviotti di Tivoli. Il club bianco-rosso Teramo informa che in occasione della gara di campionato Rimini-Teramo, in programma allo stadio Romeo Neri, sabato 21 novembre alle ore 15, organizza la trasferta in pullman al costo di 15 euro per gli associati, 20 per i non associati. Le iscrizioni si ricevono presso la sede di Via Nazario-Sauro 71, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20 e il sabato dalle 11 alle 13, oppure attraverso il numero di telefono 328-728-9-048. Il termine ultimo per le prenotazioni è fissato per le ore 20 di giovedì, 19 novembre. Dopo quattro sconfitte negli ultimi due anni, lo sceto Sharks, parliamo chiaramente di basket, esorcizza il tabucchietti e si aggiudica il derby abruzzese di Serie A2 di basket. Ascoltiamo il coach rossetano, Toni Trullo, e il giocatore Innocenzo Ferraro. La premessa è che dopo tre anni era ora che vincesse un derby con Chieti, perché l'ultimo derby vinto allenavo Pescara, ma era contro Roseto. Dopo essermi abituato nel 1998 a vincere tanti derby con il Teramo, sono tre anni che c'era la meredizione, quindi dedico questa vittoria del derby ai tifosi che ci tenevano tanto, alla società. Quello che è più importante è che però abbiamo messo altri due punti in queste prime otto giornate. La squadra sta crescendo, oggi temevo molto l'aspetto fisico, siamo stati meno brillanti rispetto alla partita di giovedì, ma me l'aspettavo perché noi giocavamo la terza partita in sette giorni, Chieti aveva giocato una partita in dieci giorni e chiaramente la temevo abbastanza. La vinta sicuramente con i canestri nel momento importante di allen da tre punti, che ci ha un po' sbloccato, siamo tornati ad avere fiducia, abbiamo trovato anche un paio di canestri da sotto con Ferraro e con Borra, diciamo che l'abbiamo vinto a livello di testa, dove non andavano più le gambe, siamo riusciti poi a cercare a fare due o tre canestre importanti nel quarto quarto. Le partite sono decise da episodi, ci siamo cercati, non è che sono venuti casualmente, perché abbiamo avuto un atteggiamento per tutta la partita, quasi tutta la partita, un atteggiamento giusto e alla fine siamo stati premiati dai vari conigli dal cilindro di Brian. Certo, quei canestri sono canestri estemporanei, quindi dobbiamo lavorare per crearci di noi quei canestri, perché magari altre partite non riusciranno allo stesso modo. Dopo le dichiarazioni del presidente della Progerchieti, Gianni Di Cosmo, che ha accusato la dirigenza di Rosseto di essere rimasta in silenzio davanti alle offese che il pubblico rossetano avrebbe rivolto alla sua persona, arriva pronta la risposta degli Sharks, premesso che il presidente Teatino e tutto lo staff dirigenziale sono stati accolti dalla società Rosseto Sharks, con tutto il rispetto alla luce delle buone relazioni che da sempre intercorrono tra i due club, disorientano il piglio polemico del comunicato di Di Cosmo. Si legge nel comunicato che continua Non dimentichiamo la radice dei nostri mali, la serenità del clima tra le due tifoserie è venuta meno nel momento in cui un atleta della Progerchieti due anni fa è andato a provocare, ad offendere i tifosi rossetani e non ci risulta che all'epoca il presidente Di Cosmo abbia provveduto con lo stesso calore con cui sfoga oggi la sua amarezza a sanzionare il coach o a chiedere scusa alla società di Rosseto Sharks. Le scuse oggi le affidiamo alle sue mani, invitandolo tuttavia a prendere gli sfottoni gli ultras per il verso giusto. Dopo oltre 11 anni di attesa nel campionato di Serie A1 femminile di palla a mano è tornato il derby tutto teramano. Se lo è aggiudicato la Gomeur Team Teramo, che ha sbancato meritatamente il Palace a Nicolò. La Tana del Globo, Almax Biapta Teramo, 25 a 30 il finale per i ragazzi di Serafino Labrecciosa. Vediamo. 11 anni, 8 mesi e 2 giorni. L'attesa è stata lunga, ma ne valsa davvero la pena. Il derby tutto teramano, che nel campionato di Serie A1 femminile tornava a giocarsi dopo un decennio, l'ultimo nella stagione 2004-2005, è stato combattuto e a tratti anche spumeggiante. Alla fine la differenza l'ha fatta la maggiore freschezza atletica, o se vogliamo la panchina più lunga, a disposizione della Gomeur Team Teramo. Le ragazze di Serafino Labrecciosa sono riuscite infatti a sbancare il Palace a Nicolò, la Tana delle Cugine della Globo Almax Biapta Teramo, e lo hanno fatto anche in maniera meritata, imponendosi per 25 a 30 al termine di una partita molto più equilibrata di quanto non dicano le 5 reti di differenza nel punteggio finale. La cronaca del match. Il primo tempo è vissuto tutto sul filo del rasoio. A partire medio è la Globo, che va subito avanti di due reti, 3 a 1 in avvio. Reagisce alla Gomeur, che ribalta tutto e scappa fino a toccare il più 4, 4 a 8 al dodicesimo. Poi di nuovo equilibrio fino all'intervallo, chiuso sul 14 a 14. Nella ripresa il punteggio resta in bilico fino al ventesimo. Poi c'è il break decisivo delle ospiti. Dal 21 a 20 per la Globo si passa al più 6 Gomeur, massimo vantaggio esterno sul 23 a 29. In questo frangente sono determinanti le penetrazioni di Kerchi e il gol della Vignucova, freddissima dei 7 metri. Alla sirena finale è 25 a 30 per la Gomeur, che si porta momentaneamente al terzo posto. Resta a quota 9 in classifica, invece, la Globo Almax Biopta, che esce sconfitta a testa alta, dimostrando però di avere tutte le carte in regola per centrare l'obiettivo stagionale della salvezza. Settimio Massotti sconfitta a testa alta per la tua Globo Almax Biopta Teramo, contro la Gomeur ha deciso il finale di gara. Sì, diciamo che probabilmente la loro panchina più lunga le ha premiate, perché noi abbiamo speso tanto, abbiamo fatto una buona partita, solo che nei momenti decisivi forse qualche ragazza aveva bisogno di cambio per quello che aveva speso, per le botte che aveva subito e non aveva possibilità di cambi. E questo, purtroppo, alla fine, con l'uscita anche del nostro pivot, si è sentito tantissimo. Serafino, è stato un derby teso, molto combattuto, ma alla fine la tua Gomeur ha vinto anche meritatamente. Sì, sì, ma io ero convinto che sarebbe stata una partita abbastanza equilibrata. Noi abbiamo la forza di aver costruito un gruppo di 12-13 ragazze, dove forse non ci sono dei fenomeni, ma alla lunga possiamo venire fuori. Così, oggi, alla fine, abbiamo sfattato il fatto che tanti ci accusavano che nelle ultime due partite il secondo tempo non avevamo corso, invece avevamo sbagliato altre cose. Siamo venuti fuori nel secondo tempo, perché abbiamo un bel gruppo, abbiamo la possibilità di ruotare e quando siamo concentrati al massimo riusciamo a fare cose positive. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione, restate su Teleponte, perché alle 21 torna un nuovo numero di A Tutto Campo con Pierluigi Vasile. Buona serata. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.